Allora cucina sistemata perché appunto adesso dobbiamo andare giù che devo portare i bambini nella mia sorella mangiamo poi devo portare già da dal dentista così almeno qui è tutto in ordine pulito e quando torniamo anche i letti sono già fatti tutto a posto e e posso stare più tranquilla insomma quindi adesso mi vesto e andiamo Grazie a tutti Grazie a tutti Gli si sono slacciate tutte e due stivaletti Ma io gliel'ho riallacciato Vai dai tenta Ammazzi la bambina Ma è fino a piano 5 Si Non sapevo la via 0 che abita piano 1, 2, 3, 4, 20 Andiamo nel 4 dai ti prego ti prego ti prego andiamo nel 4 Pia adesso lasciamo le scale L'ha lasciata a casa già a casa non c'era Qui ci siamo lì quella mascherina nuova Abbiamo aperto il cane Non so perché non è a lavorare la nonna perché non si è a lavorare Perché adesso vado Ah ok Siamo arrivati E' la prima cosa E' la prima cosa Non è tutto qui Dove andiamo Giana? Dal dentista Sei contenta? Sì Non si vede Giana Aspettate Allora Eccoci qui Siamo stati dal dentista Che non ci ha dato buona notizia Praticamente al momento è un'infezione Perché in un dentino che era già cariato E' andato a toccare l'altro che c'è dietro E quindi si è formata un'altra cari Ed è quella lì che le fa male Perché praticamente i batteri sono entrati Ma non riescono ad uscire E quindi si sono andati a sfogare nella gengiva Mi ha spiegato la signora Quindi Adesso deve prendere l'antibiotico per una settimana Se la piantate mi lasciate passare E poi In pratica Li devono iniziare le cure canalali Perché ho scoperto oggi Che si possono fare anche i denti da latte E praticamente ci ha detto Che dobbiamo Nel caso fossimo Diciamo Abusatori di bibite Oppure di caramelle O di succhi di frutta Tutte queste cose qua Di evitarle Quindi Siccome le bibite come voi sapete Non sono nella nostra quotidianità Non è un problema Caramelle Beh basta non comprarle più E se arrivano le butto Di sotto In cantina E siamo a posto Perché se le metto in casa Anche se le metto in alto Se le nascondo In qualche modo Riesce comunque ad arrivarci A rubarle E se le mangia Fate conto che quelle lì Della degusta box Della fruttella Non dico che se le ha mangiate tutte lei Ma La trovate E la rubate Se le nascoste Quindi E i succhi Avete visto che Volevo comprarli Non li compro più Così almeno evitiamo Anche per gli altri Perciò E comincerò a prendere Le bottigliette dell'acqua Perché sono comode Per la scuola Mi dispiace Per l'inquinamento E per la plastica Però Sono comode Invece la borraccia Se Si Se la faccio Invece la borraccia Devi trovarne una giusta E fatta bene Perché se è fatta male Perde l'acqua Guarda che tu Bacchia la macchina E quindi Poi si ritrovano Tutto lo zaino bagnato In realtà anche la bottiglietta Perché se no La chiudono bene Però La borraccia È più difficile La bottiglietta Se la chiudi bene Il tappo Prego E Mi mancherebbe E quindi Adesso Ricomincerò a prendere Le bottigliette dell'acqua E E Basta Poi alla fine Le merendine Ha detto che Meglio frutta E E altre cose Più sane Di evitare Le merendine Perciò Anche I biscotti Cercherò di prendere Quelli senza Zuccheri aggiunti Quelli con menù Zuccheri Perché magari Normalmente Magari No Però Magari Lei È un po' Più delicata Di Non sto prendendo Niente Di Così Di denti E quindi Magari Come sua nonna Poi Quella qui Assomiglia E quindi Magari Può darsi Che Magari Basta Veramente Poco Perché Si Si caria Si rovina Perciò Siccome Vorrei Evitarle Già Così Capite bene Come potrà Andare A finire Voglio Evitarle Di sentire Altro male E poi Vabbè Ha detto Che devo Aiutarla Un pochettino Di più A lavare I denti Perché Lei Non li lava Bene Dappertutto Quindi Boh Ce la devo aiutare Fin dei conti Io Allora Le abbiamo lavati Tante volte assieme Ho fatto vedere Come si lavano Però Comunque È piccola Quindi ci sta Che magari Non li lava Ma forse Perché devi Devi Riscaricare Quella Prima Come Mica ti dice Come li devi lavare Non solo Così davanti Ma devi Lavarle Anche così Sopra Poi Dentro Perché Perché sennò Lì rimane La lingua Che c'è anche Dal dentista E quindi Niente Quindi Ci ha detto Questo Perciò Bisogna Mettersi sotto E sistemare Questa situazione Adesso Vado da Luisa Riprendiamo Poi i bambini Poi Quando è ora Andiamo Prendiamo Giorgia Poi andiamo In farmacia A prendere L'antibiotico Per Giana E boh Intanto Devo ordinare Eh Come si chiamano Le bustine Per Sabrina Che alla fine Nessuno le sta Prendendo a prendere Quelle macchie Se Gli avuti Sì ma non mi ricordo Immuno Beh Devo guardare Se mi ricordo Come si chiamano Ragazzi Io mi stavo In pratica Adormentando In macchina Comunque Adesso andiamo Ci vediamo dopo Ciao 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 Pia Come mamá Ciao 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 Buongiorno Allora Oggi è il giorno dopo Oggi è sabato E stiamo portando Oghi dal veterinario Ma il tetto Che ha sentito Non lo vedete Perché è accucciato Qui davanti a Sabrina Che è qua di fianco a me E dietro c'è Pia Lo stiamo portando Dal veterinario Perché È spelato Tutto sul culo Dunque Alle pulci Gli abbiamo dato Qualsiasi tipo Di Antipulci Anche Anche quello Per i cuccioli Così Gli lo potevo Spruzzare Non dico Ovunque Perché Sono rimasta Sempre sulla zona Dove non poteva Toccare Io ho sempre Dei capelli Porca Perché Non riesco Mai a Lavarli Vabbè E Ma guarda Ma si può uscire Con dei capelli Così Gente Che vergogno Così sono anche Peggio Rimettiamoli come prima Sono tutti Isparati Ma E dovrei Lavarli Non è anche il tempo Di respirare Certe volte Altro che lavare I capelli Comunque E Appunto E si è spelato Tutto quanto Sul sedere E anche sotto Nella zona Del fube Praticamente Tutto quanto Rosso E irritato Quindi adesso Devo chiedere Al veterinario Come mai Se magari È La reazione All'affare Per le pulci Oppure Se appunto La reazione Ha fatto Che aveva Le pulci L'hanno Siccato Tanto Perché io Adesso Ho guardato E sembra Quasi Che Non ne abbia Più Però si gratta Sempre Quindi Devo capire Che cosa Non so Povera bestia Non può assolutamente Stare così La mascherina Ce l'ho Non mi ricordo Se in tasca O nella borsa Comunque Ce l'ho Io ce l'ho Bravissima Ho dei capelli Mamma mia Mamma mia Vabbè Cosa devo farci Non ci posso far niente Il mio capellino È scomparso Almeno Sarebbe Quello Si vedevano Questi capelli Scribrati E È abbastanza Tranquillo Anche perché Tanto Non penso Che ne farà Niente Cioè Dobbiamo Solamente Dire Che cos'è Così almeno Prende Le medicine Giù Siamo arrivati E vi faccio poi sapere Quello che ci dice Il veterino Oggi 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 No 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 Grazie a tutti. 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 E niente, quindi vado a sistemare qua, che voi vedrete nel video delle pulizie, e niente, intanto vado avanti con la preparazione del pranzo. E quando ho finito di pulire, vi dico quello che mi ha detto il veterinario. Non è un pasticcio, non è un pasticcio, è un disegno. Fanno, fanno ancora uno, fanno ancora uno. Ma non è un'altra, ma non è un'altra. Io non è un'altra, ma non è un'altra, ma non è un'altra, ma non è un'altra. Ciao. 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 Uffo. Ciao. 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 . . . Ciao. 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 Scusa. 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 Dillo a tutti che fa i gestacci. Faccio i gestacci. E allora sono lì che giocano. E noi prendiamo l'acqua E' meglio che la nulla mamma Nessuno lo vuole